ciao a tutti lui cosa prova realmente per me in questo momento prima di affrontare il tema iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo camasco iscriviti al nuovo canale felicità benessere di posto il link descrizione mescoliamo le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuale una carta 1 la carta 2 la carta 3 e la carta 4 allora pensa a questo lui del quale vuoi sapere cosa prova realmente per te in questo momento dopodiché sceglie la carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 perché ha scelto la carta 1 in questo momento lui è un'altra donna nella testa donna molto solida emotivamente e a questa donna qua in testa diciamo che ha scelto la carta 2 in questo momento tu devi non devi stare dietro a questa persona perché altrimenti rischieresti di perdere solo tempo che ha scelto la carta 3 ma diciamo che hai buone possibilità di coinvolgerlo tranquillamente di raggiungere i tuoi obiettivi eccetto la carta 4 qua è previsto un'unione con qualche modifica del tuo comportamento però è previsto un'unione molto molto solida per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale felicità benessere di posto il link descrizione ciao a tutti